Tra poco a today parleremo di politici che per una partita di beneficenza hanno preteso il rimborso spese Soddisfazione dell'arbitro che per una volta non è stato l'unico a essere ricoperto di insulti Con noi un uomo di sinistra duro e puro, Oliviero Di Liberto E anche il nostro opinionista morbido e puro nell'anima, Alessandro Fullin Ma prima tutto, proprio tutto, su Daniela Santanchè, sorpresa a passeggio col suo nuovo spasimante Vi aspetto Buonasera, ecco a voi un assaggio dei programmi della serata che vi convincerà che tutto sommato uscire con 20 gradi sotto zero non è poi così male Su Rai 3 alle 21.05 è lo speciale del TG3 sulla conferenza stampa Obama-Monti Nella quale il nostro presidente ha esposto la chiara strategia per il risanamento italiano mostrando il cartello vendesi Su canale 5 alle 21.10 il film è complicato con la bravissima Meryl Streep nei panni di una pensionata che risponde alla domanda come si fa ad arrivare a fine mese Sulla 7 alle 21.10 di notte la replica della puntata di oggi di G-Day Io vi consiglio però di guardare quella che sta per iniziare in questa puntata, sono più giovane di qualche ora Buonasera e benvenuti a G-Giovedei Questa sera parliamo di una squadra di calcio il cui difetto più grande non è il fiato corto ma il braccino cortissimo La nazionale parlamentari A parlare con noi di questo tema è un uomo che li conosce benissimo anche perché è stato a lungo l'ala sinistra del nostro Parlamento Il segretario nazionale del partito dei comunisti italiani, Oliviero Diliberto Benvenuto Oliviero pubblico, salutate Oliviero Ciao Oliviero Oliviero è un onore averti qui, davvero Allora, tu guarda, poi dicono che i comunisti si sono estinti, non è mica vero Allora, è vero che... Sai qual è la differenza, Geppi? E qual è? Che a noi cercano ancora di sterminarci, mentre al panda la stanno proteggendo Ecco, allora però siccome ha questa voce calda, voglio che sia abbinato anche un corpo altrettanto caldo Provo a richiudere il frigo e vedere se cambia qualcosa A parità di protezione naturale Riprovo Ecco, decisamente meglio Di nuovo buonasera a tutti Ri...ri... benvenuto a Oliviero Allora, Oliviero, tu sei stato ministro di grazia e giustizia Quindi sei un esperto di nemici pubblici, individui pericolosi e criminali abituali E per quello che sei venuto qui a G-Day Assolutamente sì Cioè, quale delle tre categorie rappresentiamo meglio noi? Criminali abituali E stai parlando di me, quindi che reiterano il reato con Solerzia Esatto, tutti i giorni Tutti i giorni in diretta Allora, Oliviero, a differenza di alcuni tuoi colleghi La tua vita non finisce con la politica, non finisce neanche sui giornali scandalistici Però finisce qui tutta nel nostro post-it Quindi vado a leggere la tua biografia qui raggiunta Vado? Vai, vai Vai, vai Perfetto Oliviero Di Liberto, anni 55 Curiosamente lo stesso numero di voti ricevuti dai comunisti italiani alle ultime elezioni Non c'è conferma ma pare che appena nato abbia tentato di mangiare il bambino nella culla di fianco Già a 13 anni si è avvicinato al PC ma il partito gli è subito corso lontano Nel 94 ha diretto Liberazione Quando ha lasciato il giornale quest'ultimo ha titolato Liberazione Anni fa propose di portare i testi e i resti di Lenin in Italia Ma poi non se ne fece nulla perché c'era già Achille Occhetto e due mummie di sinistra nello stesso paese E sembravano troppi E' così fan del capolavoro di Eisenstein la corazzata Potienkin che una volta interruppe un celebre film di Paolo Villaggio urlando Per me Fantozzi è una cagata pazzesca Hanno detto di lui gli intillimani Asta la sconfitta sempre Una curiosità quando era docente di diritto romano all'università di Cagliari Rifilò alla conduttrice di questo programma un risicato 24 E grazie a lui che ho capito che dovevo fare altro nella vita Me lo ricordo perfettamente il suo esame Ma tu stai scherzando? Sì Ma te lo ricordi veramente? Assolutamente me lo ricordo perfettamente E cosa mi hai chiesto? E cosa ho risposto soprattutto? No avevi risposto benino ma la commissione diciamo era fatta anche da un altro professore molto più cattivo di me Che ti ha abbassato il voto Però siccome mi sono informato dovendo venire appunto stasera da voi Ho già comunicato agli autori che quell'esame e quindi conseguentemente tutto il tuo corso di studi È stato annullato per un problema burocratico quindi varifatto Certo ci stavo proprio pensando guarda perché c'è uno speciale di Mentana Certo c'è uno speciale di Mentana sulla mia laurea e sul digesto Infatti a questo proposito che bella sorpresa Allora vado a andare avanti Che cosa? Perché me lo indichi così? Prego Devo ricominciare adesso a fare l'esame non credo Vuoi farmi una domanda? Sì Fammi una domanda Io ero preparato sul fidanzamento nel diritto romano Che secondo me ci sta bene Ma fra quelli di Daria Bignardi scusa Vabbè allora parleremo dopo nel corso della... L'ultima volta che sono andato da Daria Bignardi mi hanno denunciato Mi hanno pure processato e assolto per fortuna Che il regatore mi denunciò quindi No a me non mi ha denunciato Io non dico cose così scomode evidentemente O così interessanti in entrambe le cose verosimilmente Beh ci siamo divertiti molto al processo Quante materi sa No me lo devi dire proprio perché no Cosa aveva detto Subriatore? Cosa aveva detto Subriatore? Mi chiedono qua dei pettegoli Beh tanto ormai mi hanno assolto E quando la Bignardi mi chiese Dice ma preferisci andare a Villa Certosa da Berlusconi O al billionaire da Briatore Io l'ho messo alle strette che non sarei andato a nessuna parte per tutto l'ora del mondo E tuttavia risposi a Villa Certosa con Berlusconi mai Andrei al billionaire ma imbottito di tritolo E questa cosa che era una scemenza Era una butade Era una butade Così Non ho capito Mi hanno processato Perché viviamo in un paese assurdo Ma assolto Lo stesso paese che da 24 a certa gente E qua là si capiscono tante tante cose mio caro Qua è che è ingiusto? Meritavo di più Allora Oliviero Come tutti i politici italiani avrai anche tu una persona di sicuro Che ti cura la tua rassegna stampa E che ti informa Tenendoti insomma dotto su tutto quello che accade Allora noi di persone ne abbiamo un po' di più Circa 56 milioni Siete voi E questi sono i vostri titoli Perché devo fare un taglio ai regali? Io per esempio ho una moglie Devo regalarle qualcosa Devo regalarle Perché devo fare un taglio ai regali? Io per esempio ho una moglie Devo regalarle qualcosa Lo regalo Mia sorella in provincia di Foggia è coperta dalla neve Mia sorella in provincia di Foggia è coperta dalla neve Mi sembra che Monti sia andato a cercare soldi Mi sembra che Monti sia andato a cercare soldi Giochio numeri che me li invendo io Giochio numeri che me li invendo io E guardi So cosa Però non Non se ne parla proprio Perché ma oggi Oggi con i problemi che ci sono Manca pure Manca pure C'era una certa lucidità Insomma è questo pensiero che ancora ho alle mie spalle Oliviero Quali di questi titoli ti ha fatto arrossire ancora di più? No quello sui numeri inventati Un po' come il nostro governo Ah dici che è periodo che va di moda inventare cose Sì va di moda va di moda Ecco vogliamo dire dei numeri da giocare sulla ruota di Cagliari a questo punto? Assolutamente E dici gli dai 24? No 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 Ma meritano un 30? 90 la paura In questi tempi 90 la paura 90 la paura è la stessa che creavi tu in me 18 che era l'esame Forse il voto che avresti voluto darmi Anzi che avrebbe voluto darmi si sia No io 30 e lode 30 e lode Guarda che è troppo tardi per dimostrarlo Comunque No te l'ho detto Te lo voglio rifare l'esame E poi me lo rifai Allora adesso parlandone come da vivo Do subito la parola a Matteo Bordone Così con un uomo e una donna Buonasera Buonasera benvenuti alla nostra consueta rubrica politica Intitolata fare pena talmente forte che è chiaro a tutti che c'è dell'impegno non è un caso La nazionale parlamentare ha partecipato a un triangolare di calcio a Catania Per una raccolta di fondi per beneficenza Nonostante fosse una partita pro bono come si dice I parlamentari si sono fatti rimborsare vitto e alloggio E non hanno neppure versato un centesimo per l'iniziativa Che puntava all'acquisto di alcune carrozzine per disabili L'aereo se lo sono pagati loro Però in nota spese glielo rimborsa lo Stato Allora questo stupore mi stupisce a mia volta Allora si sa che chiedere a un politico di fare beneficenza Come dire all'apo e il can Ecco le chiavi, parcheggiami la macchina E anche bene mi raccomando Allora Oliviero La nazionale parlamentare viaggia, mangia e dorme a spese degli enti di beneficenza Secondo te è un atteggiamento che prende il peggio Lato più utilitaristico dei calciatori O è comunque il meglio che può fare un politico Ma soprattutto la domanda è Ma a cosa serve la nazionale dei parlamentari? Non serve assolutamente a niente Anzi io non l'avrei proprio creata a suo tempo Non vi ho mai partecipato Anche perché sono una schiappa Ma comunque non vi avrei partecipato E questa vicenda fa veramente rivoltare lo stomaco Non perdono occasione i parlamentari Per dimostrarsi del tutto non all'altezza con il loro ruolo E poi ma perché devono giocare a pallone? Hanno già tanto da fare Ci sarebbero tante cose più importanti Ecco, questo è il pensiero di Oliviero Di Liberto Ma cari Mentanini Qual è il vostro? Voi che date in beneficenza a mezz'ora della vostra vita guardando G-Day Che ne pensate di questo ennesimo scivolone della casta? Ditecelo rispondendo alla nostra gran domanda di oggi Dopo aver disputato una partita di beneficenza La nazionale parlamentaria pretese un rimborso spese Lei in quale campo li manderebbe a giocare? San Siro o San Vittore? A spiegarvi come votare un uomo generoso Che ne so, come un commercialista scozzese Anche cresciuto a Genova Per votare San Siro Mandate un sms con scritto 1 al 478 4782 Per votare San Vittore Non intesa come la località della ciocciaria San Vittore del Lazio Ma il carcere, la casa circondariale di Milano Mandate un sms con scritto 2 al 478 4782 Allora, mentre gli amici da casa dimenano i loro colpastrelli Mi chiedo come si fa a parlare di casta Senza chiamare in causa il principe delle caste Il nostro casto divo Alessandro Fullin Ciao Alessandro, bentornato Hai visto? I politici si rifiutano di fare beneficenza Tu la fai la beneficenza? In che forma? A chi? Come faccio io beneficenza? Ebbè esistendo Anche se la cosa che a me mi stupisce Che la gente mi scambia per un comico E non mi vede per quello che io realmente sono Un benefattore? No, una missionaria Ecco, temevo Benefattore, rimanevamo ancora sul vago Ma missionaria, ha detto a meno dubbi Però allora, il motivo per il quale Gli uomini di Stato non fanno beneficenza È che la vita, per loro comunque Nonostante anche le condanne che stiamo esprimendo È molto dura, molto molto dura, vero Matteo? Sì, ennesimo taglio da parte dell'esecutivo Ai privilegi della pubblica amministrazione Chi lavora per lo Stato non potrà più ricevere regali Legati a ruolo, legati alla professione Che superano il valore di 150 euro Se il dono vale di più, va restituito Verranno tagliati anche i budget per gli eventi e le feste ministeriali Olivero, qual è il regalo più costoso che ti hanno fatto quando eri ministro? O tu accetti solo sigari cubani? Un capretto Un capretto vivo? No, morto ma da cucinare per Natale È il regalo più costoso? Siamo sotto i 150 euro L'hai mangiato tutto intero? L'abbiamo mangiato in famiglia, certo, tutto intero L'abbiamo preparato, l'ho arrostito Noi siamo sardi, Geppi, quindi queste cose le sappiamo fare Lo so, lo so Voi che non sappiamo arrostire un capretto morto Vivo è già più complesso Allora, sicuramente non te l'hanno regalato degli animalisti questo capretto Non ti fanno, no? No, diciamo, l'hanno regalato dei pastori amici miei Salutiamo tutti i pastori sardi Allora, a questo punto che regalano i maialetti E sono in difficoltà, ma regalano sempre i maialetti Allora, gli amministratori pubblici comunque subiscono l'ennesimo taglio Questo allora va detto Allora, ormai se ricevono in regalo Tre cartoni di tavernelle, due paia di mutande e cagi Devono pure restituirli Allora, in loro soccorso arriviamo noi Siamo andati a vedere se gli italiani Sono disposti ad aiutare Chi, appunto, come i politici, sta peggio di loro A fare la colletta Abbiamo mandato il prete di G-Day Don Fullin Signor Gerardo, noi stiamo accogliendo dei soldi Per aiutare un gruppo di poveri di Roma Che sono in una situazione veramente disperata Potrebbe darmi adesso uno spicciolino, una monettina Una monettina? Una monettina Che monettina? Tiriamo fuori il soldino Ecco, quanto darebbe? Cinque euro, va bene Cinque euro? Cinque euro? Samantha? Samantha, vieni che ci danno dei soldoni Ecco No, quelle no Quelle assolutamente proprio no Quelle dovrebbero darcela a noi Diciamo Uno spicciolino, una moneta Quanto darebbe? Dieci euro Dieci euro? Lei ha una moneta a dieci euro L'unica in Europa No, lei è molto generosa Allora, Samantha? Samantha? Ecco Noi stiamo raccogliendo, come vede, un'offerta per la Camera dei Deputati Ah no Come no? Ah, no, no, no Ah, un euro, bene, bene, bene Oh no, ne vedo di più Anche di più? Ah, fantastica Samantha? Samantha, la signora ce la... Ecco, vede Noi stiamo raccogliendo del denaro per la Camera dei Deputati Che la sei da oggi, da oggi La Camera dei Deputati Eh sì, perché da oggi i nostri deputati non possono ricevere dei premi di più di 150 euro Un euro dei regali Ha sentito E dobbiamo aiutarli Dobbiamo fare qualcosa per questi poveri disgraziati Certo Lei cosa darebbe ai deputati? Una sberla Una sberla? Ha capito, Samantha? Abbiamo qui... Non si fa Samantha, quanto abbiamo fatto? Beh, un applauso a Fullin che è vestito da prete più che padre Ralph sembra un modello dolce gabbana E poi soprattutto aveva l'assistente e la perpetua che si chiama Maria Concetta Perché tu la chiamavi Samantha, scusa? Era così felice Si è chiamata Samantha e non Maria Concetta Ma abbiamo dovuto tagliare delle scene in cui hanno provato a menarti oppure abbiamo visto tutto, Alessandro? No, a un certo punto mi hanno dato un pizzicotto Una donna e mi esponete dei pericoli Ma prima o dopo che tu gli facessi la richiesta? No, ma sai la cosa incredibile? Che mi scambiano davvero per un prete Una cosa di cui non riesco a capire la ragione E non approfondirei qua adesso in diretta a mezz'ora e venti minuti prima di metà Certo, taccio Tacci, tacci, pazza Oliviero, hai visto come è bravo Don Fullin nella raccolta dei fondi Tu lo consiglieresti a Rutelli per recuperare i soldi sottrati alla margherita? Assolutamente sì Anzi direi che probabilmente Rutelli ha bisogno di due Fullin per recuperare i soldi della margherita Visto quanto si è messo in tasca il tesoriere di quel partito Ma altro che due Fullin, tre Fullin e altro che pizzicotti la finiremmo in qualche modo Con Fullin Credo di sì Fullin sei disposta a dare una mano alla margherita? Devo dire Ah, tu hai Fullin un poker proprio Vedo che sei molto esperto nel poker E infatti è poco sempre a risico Lo so, lo so, lo so Io sono uno che gioca solo a risico Eh, con tre Fullin a Massimo fai un Full di moderni Però, allora, a questo punto come si può essere riconoscenti con uno servitore dello Stato Spendendo meno di 50 euro? Allora, parliamo di gente che di solito a Natale, a parte in casi dei capretti Però riceve dei cesti con dentro un panettone, due torroni e il 7% di unicredit Allora, un modo c'è Basta fare il regalo giusto Allora, Oliviero, Alessandro Impariamo come fare il regalo giusto ai politici Giocando al nostro consueto game Abbassiamo i doni Allora, il gioco è molto semplice Noi apriremo dei pacchi Eh, ricevuti da alcuni politici Voi dovrete indovinare di quale personaggio politico si tratta Allora, vi chiederei semplicemente, prima di prenotarvi per rispondere Di fare estrapolare a Matteo Bordone, che sembra appunto davvero Fabrizio Frizzi in tandem Tua sorella E i tre oggetti che sono racchiusi all'interno di ogni coloratissimo pacco Molto rengo Per vedere le mani fai la conduttrice Ecco Citavo Frizzi Apri il primo pacco, cretino Eccoci Allora, il primo oggetto che c'è dentro di questo pacco è una fascia tricolore di lana Sì Una fascia tricolore, tipo sindacalmente, parlando, insomma Rappresenta una fascia tricolore, diciamo, questo oggetto Più che esserlo, perché sembrano Questo trist di sciarpe comprate da cinese qua fuori, sicuramente E cucite alla belle meglio, alla guisa di fascia da sindaco Sono, voi non la potete sentire, sono in pile, in pile Spesso, quindi, è coprente Quindi, direttamente, richiama una città famosa in tutto il mondo per le sue temperature polari Qui abbiamo uno splendidissimo souvenir di Roma Uno souvenir di Roma, dovete andare sulla fiducia Alessandro, cosa ti avevo detto? Che dovevi aspettare che tirassi fuori tutti e tre gli oggetti dal pacco? Lo so, ma mi piace fare i din-don È un po' memoria che si accende per ricordare la città Ah, ma guarda, ha visto Oliviero? Qua non badiamo a spese in quanto a oggetti di scena, eh? Lì è troppo, superi 150 E qua superiamoci le 50 L'ultimo oggetto, alla fine di questo, al mio via potrete prenotarvi È sale marino grosso Din-don! Prenotato! Eh, mi dispiace, Oliviero, a fare din-don, non sei bravo quanto il nostro full-in Alessandro? Alemanno! Ed era sì, ed era il pacco destinato al sindaco di Roma Andiamo con il secondo pacco Allora, il secondo pacco c'è al suo interno Devi dirmi esattamente, ah, benissimo Non era al suo interno È perché non ci stava all'interno Non ci stava, c'è Una pizza margherita fredda Alla quale? Manca Manca, forse, in una specie di metafora della situazione Manca un pezzo di questa pizza margherita Secondo oggetto, delle api, delle api E da mettere così sul... A quale bambino è stato sottratto questo oggetto? Quale bambino sta piangendo? Perché Mimo Schiavone gli ha rubato questo di notte E il terzo oggetto? E il terzo oggetto, molti, molti soldi Scusate, molti, molti... Din-don! Din-don, si è chiamato, orca, misera, che fastidio che mi dà che entra nel microfono Scusami, ho colpito uno del pubblico, era assicurato Eh, Oliviero? Beh, chiaramente è troppo facile, Rutelli Erano 13 milioni di euro in Manconolo del Monopoli e là non hai avuto dubbi Siamo a uno pari, andiamo con la terza scatola La scatola è piena di roba Una pompetta per la bicicletta per gonfiare e tante cose Non soltanto probabilmente le biciclette, anche altre cose Poi una giacca di dubbia portabilità Con scritto senza questa giacca sono meglio Falla vedere davanti È orrendo È orrendo, è un colore così da fegato Insomma, non è che un uomo con questa può essere molto elegante Ma è un uomo che diciamo non si fa problemi questo a mettere giacche bizzarre Ed un rosario Prenotatevi Vai Ding dong Scusa Alessandro, è stato più veloce Oliviero Vai Oliviero Beh, diciamo che sembrerebbe formigoni E sembrerebbe bene Bravo Oliviero Ecco, c'era una quarta scatola Soprattutto il colore della giacca Sul colore della giacca, secondo me non hai avuto dubbi Decisivo Caro Oliviero, ti sei accaparrato questo gioco fantastico Hai vinto tutti i regali dei politici che abbiamo appena mostrato Così ci risparmi la fatica di buttarli via Te li mandiamo a Roma Allora, bravo Oliviero Di Liberto Nonostante 24 Però allora, sono finiti i tempi in cui per ringraziarsi un personaggio potente Bastava un semplice regalo costoso Però siamo sicuri che questa era un'attività in cui, cari amici da casa, siete sempre stati molto bravi Allora, raccontateci di quella volta che vi siete ingraziati qualcuno potente o no con un regalo Il numero da chiamare è questo E a parlarci c'è Daniela da Bologna, credo Bologna, certo, buonasera Zeppi Ciao Daniela, quanti anni hai? 57 E cosa fai? Nella vita? Sì Insegno educazione fisica e scrivo per i giornali, scrivo libri e altre cosette Qual è l'ultimo articolo che hai scritto? L'oroscopo della settimana per Vogue della giornata per Vogue.it, l'uomo Vogue Capisci? Attivittura Un'insegnante di educazione fisica scrive l'oroscopo, non un astro logo Tanto Non mo No, Daniela, che voce calda Allora, Daniela, raccontaci di quella volta che ti sei ingraziato qualcuno con un regalo Circa 30 anni fa, in occasione di un compleanno, a una signora alla quale tenevo molto e alla quale volevo molto bene E sapevo apprezzava l'articolo, regalai un prosciutto Questa signora, che era introdotta nell'ambito, nel mondo dell'editoria, nel mondo del giornalismo Poco tempo dopo mi fece chiamare Mi fece chiamare Non lo sapremo mai Mi fece chiamare Stava leggendo, mi dicono Ma anche come le sapete? Tu da sei frequenti Daniela da Bologna, tu Ogni autore di riferimento sa che Daniela da Bologna Preferiamo se non leggono Hai visto, Oliviera, come mi vanno di moda i regali che sono animali morti? Alimentari, alimentari, utili Tutti gli animali così da pascolo Era stata la sozzagna Ti hanno regalato qualche animale, Alessandro? Sto padre morto Un chihuahua L'ho fatto addosto Ecco Alla salda Lo frustavo con lo dosmarino Mentre girava Forse è confuso il piacere con l'alimento Alessandro, non si frustano i chihuahua No, hai ragione, alla fine mi sono pentita Ecco, salutiamo i chihuahua che ci ascoltano Allora, Marina da Gatteo Mare Ciao, ciao Zeppi Da Gatteo Paese Ah, scusami No, no, perché effettivamente c'erano molte persone in dubbio Gatteo Paese Eravate preoccupati Complimenti per la trasmissione Sei elegantissima e bravissima Ti hanno mai regalato un animale morto, Marina? No, per fortuna no Bene Allora, Marina Cara Raccontaci di quella volta in cui ti sei ingraziato qualcuno con un dono Sì, quando mio figlio aveva tre anni Non ne voleva sapere assolutamente di fare la pipì nel vasino Allora gli ho detto Guarda, se fai la pipì nel vasino compriamo subito un gioco Fatta la pipì nel vasino siamo andati a comprare il gioco Solo che la successiva pipì mi ha chiesto un altro gioco Ma non era possibile comprare un gioco ogni pipì No, anche perché è più di una volta al giorno, spero per tuo figlio Allora Abbiamo risultato la gran domanda, lo dice questa Lumiere Allora andiamo a condividerlo insieme Dopo aver disputato una partita di beneficenza La nazionale parlamentaria ha preteso un rimborso spese Lei in quale campo li manderebbe a giocare? San Siro o San Vittore? E caro Oliviero, sono d'accordo con te Il 98% delle persone che hanno votato Che pensano che non dovrebbero andare a giocare Ciao Alessandro Fullin Grazie a Oliviero Di Liberto Grazie a Matteo Bordone A domani per un altro solo efficissimo G-Day Ciao